Bentornati al Caffè Letterario. Oggi vediamo insieme, riflettiamo sui contenuti della lettera sul romanticismo che Manzoni scrisse il 22 settembre 1823. Lettera indirizzata a Cesare D'Azeglio, il padre di Massimo D'Azeglio, il futuro ministro piemontese, al quale scrive e coglie dunque l'occasione per esprimere tutte le sue idee, le sue riflessioni proprio sul romanticismo e cercherà di spiegare quali siano le varie accezioni del romanticismo, quindi cercherà anche di dimostrare, di far comprendere quali siano gli aspetti positivi e gli aspetti negativi che sono racchiusi all'interno di questo termine romanticismo e vedremo che viene da romantic e sarà legato al romance quando faremo poi tutto il discorso molto specifico e dettagliato sul romanzo e vedremo proprio la storia del romanzo. Manzoni coglie un'occasione reale, mentre intrattiene questo rapporto epistolare con Cesare D'Azeglio e cerca quindi di esporre il suo parere e cerca anche di fugare i dubbi che si sono creati attorno a questo termine, perché il romanticismo ha veramente tutta una serie infinita, molto vasta, di accezioni e significati, quindi cercherà in questa lettera proprio di far comprendere quali siano gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Lettera che venne poi pubblicata nel 1846 senza il consenso dell'autore e verrà poi invece data alle stampe dopo aver ricevuto quindi l'approvazione dell'autore soltanto nel 1870. Manzoni seguì con grande interesse questo dibattito classico romantico, questa polemica che si era accesa e che soprattutto era continuata ed aveva trovato un rinnovato vigore dopo la pubblicazione da parte di Madame de Steyl di un suo articolo pubblicato nel 1816 sulla rivista Biblioteca Italiana, un periodico quindi anche autorizzato dalle autorità austriache, intitolato sulla maniera e l'utilità delle traduzioni. Ecco, in questo articolo Madame de Steyl critica la nostra letteratura e cultura italiana. Gli artisti hanno commesso gravi errori, in particolare sono rimasti allegati, attaccati ai grandi modelli del passato e hanno trasformato l'insegnamento degli antichi in veri e propri modelli da replicare. Quindi nel corso del tempo l'artista non si limita più a prendere spunto, a prendere esempio dei grandi del passato, ma arriva addirittura ad imitarli in maniera ripetitiva e monotona. Quindi tutte le regole e la visione degli artisti del passato diventano delle regole, dei vincoli asfissianti che soffocano il genio artistico del poeta. Ecco la critica dei romantici all'illuminismo e soprattutto al neoclassicismo. La letteratura nel corso dei secoli si è arenata, è rimasta legata a dei modelli dai quali non si è più staccata, ma questo è un discorso che ha radici molto antiche, risale addirittura all'umanesimo e al rinascimento, perché se inizialmente gli artisti guardano con grande curiosità e quindi con entusiasmo ritrovato e rinnovato agli antichi, quindi alla classicità greco-romana, adesso purtroppo quei grandi modelli del passato, quei maestri di armonia, di equilibrio, di eleganza, di proporzioni, perché il bello è tutto ciò che è ben proporzionato, sono quei corpi meravigliosi perché hanno tutto al loro posto, non c'è nulla di deforme, di alterato, adesso purtroppo sono diventati dei modelli da cui l'artista non può più svincolarsi e questo è il problema, sono diventate delle gabbie, delle gabbie artistiche che soffocano di fatto l'originalità e quindi anche il genio creativo dell'artista, quindi veramente sono ormai rinchiusi all'interno di una gabbia, come dirà Manzoni in questa lettera, gli artisti hanno fatto dei grandi del passato, delle regole assolute, li hanno cioè universalizzati, come se un artista moderno non fosse in grado di superarli, ecco l'errore, aver trasformato un modello da cui poter imparare qualcosa in una legge universale. Adam de Style poi oltre quindi a condannare queste regole ferree critica l'eccessivo ricorso alla mitologia che gli artisti fanno, perché ormai la mitologia la ritroviamo in tutti gli scritti, è un qualcosa di trito e ritrito, qualcosa ormai di vecchio, di superato, il mito vedremo anche in Manzoni non soddisfa più, se inizialmente aveva ispirato e aveva suscitato curiosità ora non è più così, ormai è vuoto, si sente, si percepisce tutta la sua artificiosità, è qualcosa di vecchio, di vetusto, di obsoleto, ormai bisogna superarlo, bisogna eliminarlo, quindi adesso trattando la lettera vedremo proprio il contrasto, il dibattito tra i romantici e i classicisti, che è un po' quello che la de Style già riassume nel suo articolo. Interessante perché Madame de Style era figlia del Necker, proprio del ministro delle finanze di Luigi XVI e sposò l'ambasciatore svedese che si trovava a Parigi, de Style Holstein, quindi in realtà di Style è il cognome del marito, ecco lei è importantissima perché è una grande donna che partecipò ai più grandi salotti di Francia, soprattutto a Parigi, conobbe grandi personalità, Voltaire, Goethe, Schiller, Schlegel, i fratelli Schlegel, e sempre nel suo articolo però elogia le traduzioni che si sono fatte in italiano, nella nostra lingua in particolare esprime la sua ammirazione per la traduzione dell'Iliade realizzata da Vincenzo Monti, ecco, ed è su questa linea, dice la de Style, che bisogna continuare, bisogna cioè andare avanti e tradurre i grandi artisti, soprattutto quelli moderni, sia francesi, sia tedeschi, quelli inglesi, quindi continuare anche a tradurre soprattutto autori contemporanei, perché bisogna dare una scossa, bisogna svecchiare l'Italia, è un po' poi anche il ragionamento che faranno, ragazzi, lo vedremo in futuro, anche i futuristi. Ormai l'Italia è piena di professori, dicono, di professori a tutte le porte, l'Italia è un enorme museo, è pieno di professori, di ciceroni, è pieno d'arte, di roba vecchia, bisogna eliminare tutto, bisogna rinnovare, bisogna puntare quindi al dinamismo, alla modernità che incombe, che avanza, bisogna essere proiettati verso il futuro, ecco, è un po' lo stesso ragionamento, chiaramente fatto in chiave completamente diversa, con toni diversi, però di fatto è proprio questo, l'Italia ormai è rimasta ancorata al passato. Per comprendere appieno la lettera però, prima di addentrarci e quindi vedere per sommi capi tutti i vari punti della lettera di Manzoni, quindi vedremo le sue riflessioni, bisogna fare una breve premessa. L'Italia, abbiamo detto, è rimasta ancorata ai grandi del passato e ha trasformato gli artisti e soprattutto le loro tecniche in regole universali. Ecco, per capire questo discorso, attenzione, perché bisogna collegarlo addirittura all'umanesimo e al rinascimento. Dobbiamo tornare indietro fino al Quattrocento. È importante per comprendere la lettera, altrimenti non si capisce da dove nasca questo dibattito, perché non è una discussione soltanto attuale, non nasce dal nulla. Ricordatevelo ragazzi, anche quando dall'illuminismo passiamo al romanticismo, la cosa non è immediata, non è che da un giorno all'altro si passi a un movimento letterario diverso. La realtà che loro osservano è sempre la stessa, viene semplicemente guardata da due angolazioni diverse. Come direbbe Kant, vengono usati due paia di occhiali diversi. Ed è la stessa cosa che accade adesso. Ci si accorge che gli occhiali usati finora non sono più attuali, non sono più in grado di soddisfare i bisogni dell'uomo moderno, dell'uomo del primo ottocento, quindi a cavallo soprattutto tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. Ricordiamoci che già in Juliou, la Nouvelle Louise di Rousseau del 1761, compaiono già i primi segni di crisi di questa ragione che non soddisfa più. Ci sono già degli elementi romantici in questo grande romanzo epistolare di Rousseau. Quindi non bisogna assolutamente dividere la letteratura e tutte le epoche storiche per compartimenti separati. Bisogna stare attenti e ragionare sempre vedendo i collegamenti tra le varie epoche. Nell'umanesimo vengono riscoperti i classici, quindi si inizia a recuperare tutta una visione antropocentrica dell'uomo. L'uomo è posto al centro dell'universo, è un alter deus, è qualcuno che può plasmare, che può creare qualcosa dalla natura. Cioè si cerca di recuperare quel contatto diretto anche con la natura, la cosa però sarà impossibile e quindi piano piano si useranno i grandi del passato come modelli a cui ispirarsi. Poi vedremo che nel 500 Bembo selezionerà come grandi modelli per la prosa e per la poesia Petrarca e Boccaccio e quindi piano piano nel corso dei secoli purtroppo non ci si potrà più esimere dal osservare la realtà attraverso i loro occhi. Cioè di fatto se inizialmente l'umanesimo e il rinascimento sono positivi perché il recupero di questi grandi classici serve anche per dare nuovo lustro, nuova dignità alla figura dell'uomo rispetto ovviamente al periodo medievale, nel corso del tempo questi grandi classici, quindi i grandi valori trasmessi dal passato, pensiamo all'armonia, all'equilibrio, all'eleganza che rispondevano anche all'esigenza di dominare la natura, perché ricordatevi che l'uomo nascimentale è legato a questa nuova concezione dell'uomo come alter deus, come diceva anche Picco della Mirandola, come dirà Marsilio Ficino, l'uomo è in sostanza in un certo senso anche un altro dio, è simile a dio perché di fatto può creare qualcosa, può dominare la natura. Ecco questa concezione però nel corso del tempo sfocerà prima nel manierismo e poi appunto nel neoclassicismo. Cosa significa? Che piano piano l'artista e l'intellettuale inizierà non solo ad utilizzare la maniera, cioè lo stile, il metodo di lavoro dei grandi del passato per trarne un'ispirazione, quindi è chiaro un artista per poter emergere e soprattutto per potersi affermare deve prima conoscere i suoi predecessori. Vedremo adesso in questa lettera che lo stesso Manzoni dirà che per poter imparare a leggere, per poter scrivere bene e per poter poi iniziare a scrivere qualcosa di proprio bisogna prima imparare a leggere. Che cosa si legge? Ovviamente si leggono i grandi autori che ci hanno preceduto, però nel corso del tempo questa maniera degli antichi diventa di fatto la regola, quindi i classicisti la trasformano in una legge universale. Vedremo che Giorgio Vasari dirà proprio questo, i grandi coloro che hanno raggiunto i vertici dell'arte rinascimentale sono stati proprio Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Secondo lui, ecco, questi sono i grandi modelli a cui bisogna ispirarsi per poter poi realizzare le proprie opere. Secondo il Vasari non ci sono stati altri autori in grado di superare e soprattutto di eguagliare e di superare questi grandi artisti del passato. Quindi di fatto la critica che il romanticismo muove ai classicisti è proprio questa, di aver trasformato dei modelli in leggi universali, quasi a dire che l'artista moderno non è più in grado attraverso la sua originalità e attraverso la sua competenza di poterli addirittura superare o di poter dire qualcosa di nuovo. E questo è il problema, cioè ogni epoca ha i suoi artisti e rispondono a determinate esigenze con le loro tecniche, con le loro maniere, ma nel corso del tempo poi si può anche cambiare. E questa è la cosa importante. Arrivando dunque alla lettera sul romanticismo del 23, Manzoni chiarisce subito che cosa si debba o non si debba intendere per romanticismo. Ci sono varie accezioni, molti significati diversi, Manzoni distingue tra un significato positivo e un significato negativo, cioè all'interno del concetto romanticismo ci sono varie sfaccettature, cioè si può usare per indicare qualcosa di positivo oppure qualcosa di negativo. Manzoni riconosce anche il fatto che sia molto più facile affermare ciò che romanticismo non è rispetto a ciò che in realtà invece è, cioè è molto più difficile dare una definizione per esempio di vero storico, di vero poetico, cioè il vero, il santo vero mai non tradir che abbiamo già incontrato nel Carme e morte di Carlo Imbonati. Non è assolutamente semplice definirlo, sicuramente dice il vero è tutto ciò che non è falso, dannoso e inutile. Però ecco adesso vedremo nella trattazione che cosa sia positivo nel romanticismo, che cosa invece sia negativo e lui parte appunto proprio dal negativo perché è molto più semplice affermare ciò che romanticismo non è e facendolo vedremo dunque il dibattito e la contrapposizione tra la posizione, l'idea del classicista e quella invece del romantico. Se consideriamo la parte negativa del romanticismo, secondo Manzoni ecco il romanticismo negativo dunque va ad escludere che cosa? Va ad escludere l'uso della mitologia, il principio di imitazione, quindi la famosa mimesis della natura e il rifiuto delle unità aristoteliche, questo fa il romantico, quindi Manzoni rifiuta tutte le regole del passato, ma attenzione non significa non studiarle più perché abbiamo già visto che Manzoni sempre in questa lettera dirà che per poter imparare a scrivere devo prima imparare a leggere e lo faccio proprio sul modello dei grandi del passato, tuttavia questi non mi devono vincolare, non devo essere cioè condizionato da coloro che mi hanno preceduto. Di fatto vengono rifiutati dunque gli aspetti più obsoleti e antiquati dell'illuminismo e parte proprio dal primo, quindi dal rifiuto della mitologia. Finora si è abusato della mitologia, di questo argomento, ormai è un qualcosa che è stato trito e ritrito, di cui si è scritto in tutte le salse, in tutti i componimenti, in tutti i generi letterari. Ormai il mito, questo racconto inventato, ovviamente metaforico per dire qualche cosa d'altro, è ormai percepito come un qualcosa di artificioso, che ha stancato e che non è più in grado di soddisfare le nuove esigenze dell'uomo moderno, che invece bisogno di sentir descrivere i problemi reali, attuali, attraverso dei personaggi veri, ovvero simili. Non è un caso se il novel inglese, quindi se il romanzo, inizia ad introdurre tutta una serie di personaggi realistici. Pensiamo a Robinson Crusoe, pensiamo a Gulliver che compie i suoi viaggi, pensiamo ai promessi sposi, dunque a Renzo e Lucia e così via, quindi potremo continuare all'infinito. Pensiamo a Pamela, a Clarissa di Richardson. Ecco, tutte eroine o eroi però in chiave moderna. Il mito ha stancato, è qualcosa di vecchio, di obsoleto ma soprattutto di palesemente falso, che non interessa più a nessuno. Secondo i classicisti invece togliere il mito alla letteratura significa succhiare via l'anima da questi scritti, perché se non uso il mito di che cosa parlo, cioè non resta più nulla, perché ormai il classicismo ha trasformato la letteratura in un puro esercizio formale. La forma è prevalsa sul contenuto e la letteratura è diventata dunque un puro esercizio letterario, un qualcosa da utilizzare semplicemente per dimostrare la propria abilità stilistica, ma di fatto i contenuti ormai si sono esauriti. Quindi è una letteratura che non parla più al cuore delle persone. Ecco perché il romanticismo punta anche ad una letteratura popolare che sia finalmente in grado di occuparsi dei problemi reali. Infatti vedremo che soprattutto in Italia il romanticismo è legato al patriottismo, è legato dunque ai grandi eventi che si stanno consumando e che si stanno vivendo in Italia, pensiamo ai moti, pensiamo alla riscossa italiana contro il dominatore straniero, quindi contro l'Austria e così via. Quindi è molto diverso il romanticismo italiano rispetto a quello del nord Europa, pensiamo soprattutto all'Inghilterra. Pertanto i romantici vogliono dimostrare che una letteratura senza mitologia è comunque possibile e per dimostrarlo citano anche i grandi autori del passato come Dante nella Divina Commedia, il canzoniere di Petrarca e l'Orlando furioso di Ludovico Ariosto. È chiaro che elementi o personaggi legati al mito li troviamo ancora anche in questi autori, però di fatto dimostrano che pur non occupandosi esclusivamente di mitologia è comunque possibile parlare al cuore delle persone e occuparsi del santo vero, quindi della realtà che effettivamente è, che vivo tutti i giorni, perché nel corso dei secoli la letteratura purtroppo si è chiusa prima all'interno delle corti, poi all'interno quindi di questi virtuosismi stilistici che però sono fini a se stessi, perché ormai l'unica cosa che conta è la forma, non è più il contenuto, quindi nel corso del tempo purtroppo la letteratura ha perduto quel contatto con la realtà si è staccata, quella frattura tra l'artista e la società purtroppo è andato maturando e degenerando poi nel corso del tempo e ha le sue radici proprio nel rinascimento, quando da un umanesimo civile si passerà poi un umanesimo cortigiano, ma di questo parleremo in un'altra lezione. Quindi non è più possibile esprimersi in questo modo, dice anche Manzoni nella lettera bisogna dire le cose come stanno, basta utilizzare il mito perché per i classicisti il mito ovviamente cela un'allegoria, una metafora, cioè è un modo per dire qualcos'altro, era un racconto inventato per esprimere una grande verità di fondo, una paura per spiegare un fenomeno e così via, però ormai è un linguaggio che non soddisfa più. Quindi loro dicono si è sempre usata la mitologia, bisogna continuare ad usarla, mentre per i romantici ormai è da eliminare completamente. Infatti dice Manzoni che se con il rinascimento la mitologia ha suscitato interesse e curiosità, adesso non è più possibile. Secondo Manzoni l'errore è stato proprio questo, cioè di aver trasformato un semplice accessorio, quindi uno strumento utile per veicolare magari un'idea complessa, difficile da esprimere con parole semplici, in una regola universale, cioè di fatto la mitologia ha preso l'intera composizione poetica, cioè è diventata l'unica protagonista della letteratura, del componimento, è diventata a torto l'anima della poesia. Manzoni stesso, cito le sue testuali parole, dice che la mitologia è ferita mortalmente, ormai è come una belva o una persona che è stata ferita e che piano piano sarà destinata a soccombere e a sparire per sempre, quindi è convinto che ormai la mitologia abbia fatto il suo tempo e sia ormai ora di cambiare completamente rotta. Riconosce alla mitologia il merito o il demerito comunque di fatto di aver influenzato la letteratura per secoli, quindi inevitabile, dice Manzoni, che la mitologia lascerà molti modi di dire, pensiamo alla forza Erculea, quindi riferita ad Ercole, una persona ha un aspetto marziale, ecco lui fa questi esempi, però ormai è da superare. E poi attenzione c'è un altro elemento, secondo Manzoni c'è anche una ragione cattolica, quindi cristiana, la mitologia, qua cito Manzoni, è idolatria, cioè ogni immagine cela un dio, perché? Perché i greci e i romani naturalmente vedevano un dio in ogni forza della natura, cioè erano soliti rappresentare tutte le forze nascoste all'interno della natura attraverso una divinità, è chiaro, davano un nome, una forma a qualsiasi cosa. Secondo il Manzoni è idolatria ed è importante anche non sottovalutare, non dimenticare questo aspetto che spesso invece non viene trattato perché fa parte della mentalità e soprattutto della ideologia, della poetica di questo grandissimo autore che ha cambiato la nostra letteratura, che comunque ha dato un contributo straordinario, quindi non bisogna assolutamente pensare che sia una questione di poco conto. Ecco, anche la componente religiosa va a scardinare un elemento cardine della nostra letteratura che si era usato da secoli, la mitologia che ora mi diventa idolatria, perché di fatto va a contrastare con la visione cristiana dell'uomo moderno, perché ricordiamoci che nell'Ottocento la popolazione è cattolica, la maggioranza è ancora cattolica, pensiamo a Mazzini che quando fonda la Giovine Italia, quando fa giurare i suoi aderenti, giurano prima della patria, giurano in nome di Dio, quindi attenzione, in nome di Dio, della patria, della nazione, quindi non è assolutamente una componente da sottovalutare, è fondamentale. Il romanticismo è negativo perché rifiuta il principio di imitazione, la famosa mimesis della natura, anche qui inizialmente già nell'umanesimo e poi nel rinascimento, inizialmente il principio di imitazione, perché viene riscoperto proprio in questo periodo, non significava ripetere meccanicamente tutte le tecniche e la maniera, dunque lo stile, degli autori che ci hanno preceduto, assolutamente no, significava semplicemente prendere esempio dai grandi e poi però inserire qualcosa di originale, qualcosa che fosse effettivamente personale e quindi legato all'originalità e alla creatività dell'artista. Nel corso del tempo è una cosa veramente lenta, nel corso del tempo arrivando poi nella seconda metà del Cinquecento invece si arriva a una sterile imitazione e ripetizione di coloro che li avevano preceduti. I classicisti attaccano i romantici perché pensano che non vogliono neanche più studiarla la mitologia e quindi li accusano anche di ignoranza, di voler cancellare il passato, di voler veramente porre un limite definitivo, categorico, voltare pagina per sempre. In realtà abbiamo visto che il romantico non sopporta semplicemente di essere soffocato, di essere succube di queste regole che sono diventate universali, ma non era così all'inizio, attenzione, perché nel Quattrocento il principio di imitazione prevedeva semplicemente il prendere spunto da un altro modello, ma non certo quello di ripeterlo meccanicamente. Manzoni afferma che gli antichi vanno letti e soprattutto studiati per scrivere bene, prima bisogna imparare a leggere e lo si fa proprio sugli antichi, ma non mi devono condizionare, questa è la regola di base. L'imitazione sterile, il ripetere incessantemente e costantemente delle regole obsolete che in realtà non sono regole perché è semplicemente il modo che aveva un artista di rappresentare la realtà, ma la realtà cambia, si evolve nel tempo e quindi è chiaro che anche le tecniche, le maniere, gli stili debbano assolutamente cambiare, cioè come direbbe Kant va cambiato il paio di occhiali con cui osservo la realtà. Pensiamo all'esempio di Galileo, quando Galileo afferma che la visione geocentrica è errata, che in realtà è il sole che è posto al centro del nostro sistema solare, quindi quando cambia completamente la visione aristotelico-tolemaica, ebbene anche lui viene accusato di essere un ingannatore, soprattutto di voler sovvertire l'ordine costituito. Vedremo quindi che la scienza darà un grande colpo sia alla visione religiosa sia a quella filosofica, perché va proprio a scardinare tutto ciò in cui fino a quel momento si era creduto, quindi va a eliminare le certezze dell'uomo del suo tempo. Non si va più avanti perché queste regole impediscono il progresso, impediscono dunque di innovare, di svecchiare la letteratura, che è quello che chiedeva anche la De Stael nel suo articolo. Pertanto, come era già successo con Galileo, che la Chiesa, la filosofia e quindi anche la religione avevano bloccato il progresso per un periodo, anche quindi i classicisti tentano in tutti i modi di opporsi a questo cambiamento. Quindi è un dibattito veramente molto interessante, molto acceso, che continua per molto tempo e che non nasce sicuramente solo nell'Ottocento, perché ha le sue radici addirittura nell'umanesimo, nel Rinascimento. Dice, qui cito le parole stesse di Manzoni, nella sua lettera, quantunque i classici abbiano scritte cose bellissime, quindi riconosce i meriti naturalmente, pure né essi né verun altro, quindi né nessun altro, non ha dato né darà mai un tipo universale, immutabile, esclusivo, di perfezione poetica. Quindi qui va definitivamente ad abbattere il concetto che aveva espresso Giorgio Vasari a suo tempo. E secondo lui invece i grandi autori che avevano fatto la storia dell'arte, soprattutto delle arti figurative, erano stati Raffaello, Michelangelo e Leonardo. Pertanto le vette, proprio l'apice della grandezza, coloro che erano riusciti non solo ad imitare ma addirittura a superare gli antichi, erano stati proprio questi artisti. Ma che cosa serve un'imitazione cieca? Non serve assolutamente a nulla. Pensiamo alle egloghe, lo dice Manzoni, a cosa servono le egloghe, le bucoliche? Basta con questi poemi pastorali, dove abbiamo il locus a menus, i poeti che cantano, che si scontrano nelle gare poetiche. Pensiamo dunque al grande Virgilio, pensiamo a Titiro e a Melibè, ormai hanno stufato, sono vecchie, sono obsolete perché raccontano di questo mondo bellissimo, ameno, quindi carino, con questi uccellini che cantano, con il fiume che scorre, in questa tranquillità che in realtà di fatto è una torre d'avorio, perché la letteratura si è chiusa nella sua torre d'avorio, altro che ermetismo. Siamo già nella torre d'avorio, ancora in pieno ottocento, vedete come è tutto collegato, poi cambiano i metodi, cambiano le forme espressive, quindi cambia il modo in cui si rappresenta la realtà, ma di fatto il ragionamento è sempre lo stesso. Infine il romantico rifiuta delle unità aristoteliche di unità di tempo, di luogo e di azione, sono obsolete, perché dice Manzone accettare tecniche di epoche specifiche anche oggi, la società è cambiata, il mondo si evolve, pertanto non posso trasformare la maniera, lo stile di un artista in una legge universale. Questo è l'errore, perché andrebbe poi a impedirmi di rappresentare il santo vero con i miei occhi, quindi con gli occhi di un uomo contemporaneo, che è la stessa identica critica, che fa anche Madame de Stael nel suo articolo pubblicato sulla Biblioteca Italiana, questa rivista milanese. Nella seconda e ultima parte invece della lettera Manzoni si concentra su che cosa invece sia il romanticismo in chiave positiva e lo riassume nella celeberrima frase che facciamo sempre anche a scuola. Avere romanticismo significa avere il vero per oggetto, l'utile per scopo e l'interessante per mezzo. Questo è tutto ciò che racchiude invece la parte positiva. È difficile definire dunque il romanticismo, non è assolutamente un'impresa facile, soprattutto il vero, il santo vero, la realtà storica documentata. Non è semplice, è più concentrato sul negativo. Se andate a leggere, come vi ho appena raccontato io, l'intera lettera sul romanticismo, la trovate su internet, è proprio molto lunga ma è soprattutto dedicata alla parte negativa. Quindi abbiamo visto il rifiuto della mitologia, del principio di imitazione delle unità aristoteliche. La parte positiva invece è molto più ridotta perché è molto difficile dire che cosa sia, un po' come dirà poi anche Montale, soltanto questo noi oggi possiamo dirti ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Ma andare a definire ciò che siamo è più difficile perché l'uomo moderno ormai entra in crisi, è una realtà che non è ben conoscibile, non possiamo conoscere tutto. Il romantico è consapevole di questa frattura. Piano piano, soprattutto con il decadentismo, arriveremo proprio alla crisi di questo ruolo di poeta vate che aveva invece l'artista a suo tempo. Quindi un uomo che potrà conoscere soltanto un frammento di verità, come dirà anche Ungaretti. L'artista è quel palombaro che sa immergersi nel porto sepolto, quindi nelle profondità dell'oceano e poi riemergere con che cosa però? Con un frammento, non certo con l'intera nave ma soltanto con qualche pezzo. Quindi qual è in realtà il ruolo della poesia? Beh è chiaro, è dell'arte in generale. L'arte ha una funzione conoscitiva, attraverso la letteratura e l'arte posso conoscere la realtà, è uno strumento di conoscenza. La stessa cosa che dirà anche nel Santo Vero. Il Santo Vero mi permette di conoscere la realtà così com'è, una realtà documentata, è il processo che poi troveremo applicato nei Promessi Sposi. Quindi la letteratura deve avere il vero per oggetto, il Santo Vero, quello deve essere lo scopo, non deve più essere una letteratura falsa, inutile e dannosa come è stato finora, non deve più essere chiusa nella sua torre d'avorio, ma deve uscire, deve abbattere queste catene che soffocano, queste tecniche, questi stili ormai obsoleti, queste regole che non servono assolutamente a niente e aprirsi finalmente al mondo reale, al suo mondo contemporaneo. Deve avere l'utile per scopo, perché la letteratura oltre ad avere una funzione conoscitiva ha anche una funzione etica, morale, perché deve indurmi anche a comprendere sì la realtà, ma deve indurmi anche a capire qualcosa, mi deve insegnare, mi deve istruire e quale insegnamento migliore dell'epoca in cui stanno vivendo. Negli anni 20 ci sono i moti, poi ci saranno anche negli anni 30, negli anni 40 le guerre per l'indipendenza, fino ad arrivare finalmente all'unità d'Italia nel 1861. Quindi è un secolo veramente di grande patriottismo, di nazionalismo, quindi sarà veramente un secolo in cui gli autori avranno la possibilità di insegnare grandi ideali ai propri lettori, ai propri ascoltatori e deve avere ovviamente l'interessante permesso, chiaro, e per poter educare il maggior numero di persone possibili, quindi per raggiungere il più vasto pubblico, è chiaro che l'artista debba necessariamente produrre un qualcosa che sia anche stimolante e che possa intrattenere e catturare l'attenzione del lettore, altrimenti se si annoia o se si addormenta non può imparare assolutamente nulla. Quindi di fatto in questa lettera Manzoni cerca di definire i concetti chiave, le accezioni positive e soprattutto quelle negative del romanticismo. Vedremo poi nel dettaglio anche i promessi sposi, però in questa prima lettera Manzoni ci ha già dato un aiuto molto molto importante perché questa lettera ci aiuta a capire in che modo il dibattito stesse proseguendo e in che modo dunque si stesse sviluppando e vedremo che poi sarà il trionfo ovviamente del romanticismo sull'illuminismo, quindi la ragione non è più in grado di soddisfare tutte le mie richieste, i miei bisogni, ci sono delle componenti intime interiori che purtroppo non posso controllare con la ragione. Attenzione a non dimenticare mai però che sia il romanticismo sia l'illuminismo in realtà sono semplicemente due facce della stessa medaglia, ci sono due modi diversi di interpretare la stessa realtà. Se l'illuminismo e quindi abbiamo visto il classicismo si chiude nella sua torre d'avorio, io utilizzo già questa espressione così anticipiamo un po' i tempi, quindi si chiude all'interno delle proprie regole, del proprio mondo fittizio, falso, artificioso e costruito quindi attorno alla mitologia e soprattutto all'ocus a menos, pensiamo a tutti i poemi pastorali, alle egloghe di Virgilio, il romanticismo si chiuderà e comunque in parte naturalmente andrà ad analizzare tutte le mie componenti più intime, quindi troverà la sua fuga, la sua evasione da questa realtà nell'interiorità, nell'io, nelle profondità dell'anima, quelle zone d'ombra dove l'uomo non può autocontrollarsi e sarà poi il grande Freud e vedremo con Italo Svevo che ci spiegherà quindi attraverso la psicanalisi che soltanto una minima parte delle nostre idee, delle nostre emozioni è in realtà controllata dal nostro cervello, ci sono tantissime cose che vengono nascoste nel nostro inconscio e come affermeranno con grande forza e violenza i futuristi ormai l'Italia è vecchia, è piena di musei, di accademie, di professori e tutte le porte che bisogna eliminare, bisogna svecchiare l'Italia, guardare al futuro, celebrare la forza, la violenza dell'uomo, lo schiaffo, il pugno, la guerra come sola igiene del mondo, quindi ritroveremo tutti questi grandi temi quando poi affronteremo il Novecento e lì sarà proprio la crisi dell'artista e dell'uomo moderno, ma come potete già intuire questa crisi nasce già da molto lontano, molto prima dell'avvento del Novecento, dei totalitarismi e delle guerre mondiali. Arrivederci alla prossima lezione.